Ciao a tutti, io sono Angelo Peluso, sono qui in questi magici studi insieme alle ragazze di Nonella Rai, Alessia Strina, le ragazze di Domenica Inn, perché stiamo presentando questo bellissimo progetto Maledonne. Maledonne raggruppa il nostro gruppo d'amicizia di lavoro, quindi abbiamo associato questa bellissima amicizia quasi trentennale e in più la nostra arte di far spettacolo, quindi cantare, ballare e mettere allegria proprio come i magici anni 90 hanno fatto con Domenica Inn, Nonella Rai, quindi noi siamo pronti, voi siete pronti, seguiteci, voi siamo qui e vi aspettiamo. Ciao a tutti.